Falla di Milinkovi contro la ladora replica della Lazio. Roma il giorno dopo se ne dicono tante, noi preferiamo rivederle. Buona Pasqua! Con questa didascalia che accompagna un video social a Lazio allunga la coda delle polemiche che hanno caratterizzato il post partita dell'Olimpico. Acceso dalla vittoria della banda di Sarri contro la Juve. Ovviamente il post ha scatenato i commenti dei tifosi laziali. Entusiasti per i tre punti e per la frecciata del club. Il video risposta e il video condiviso dalla Lazio è una risposta alle lamentele e alle accuse contro l'arbitro. Chi ha deciso di convalidare il gol di Milinkovic, quello dell'1-0, nonostante i giocatori della Juve chiedessero la spinta su Aleksandro e quindi il fallo. Nel post la Lazio ha ricordato tutte le irregolarità commesse dai bianconeri, dai falli di quadrado, braccio e suzzacca ogni tre volte, al duro teckel di Locatelli. Creando un filmato con gli episodi più discussi. Virgola.